Sono Duccio Corsini e sono il proprietario delle Corti. La storia mia a Villa Le Corti comincia nel 1992. Un'azienda antica rimasta molto indietro. Il nostro compito, il mio compito, è stato di guidare una giovane squadra a rimettersi in pari, cosa che è successa una quindicina d'anni fa, e a fare meglio, essere al pari dei nostri migliori colleghi. Ho imparato che la natura ha un ruolo importantissimo, che però non bisogna soggiacere. Il nostro gusto, il nostro modo di essere e quindi anche il nostro modo di agire deve modellare quello che facciamo rispettando la natura. ZAC non è un vino che si faceva a Villa Le Corti prima di me, ed è un'etichetta che è stata introdotta nel 2008, quindi la prima vendemmia. È un vino che viene da una scelta di Sangiovese, da una particolare vigna, difficile da pronunciare, figuriamoci da raccontare e da ricordare. Quindi ZAC è dedicato come etichetta a una mia prozia, zia Anna Corsini, era il nostro modo di chiamarla, pronipoti tra pronipoti.